Modificazione di esso La via mistica, cerchio medianico K, attraverso Marco, guida spirituale. Vorrei dire quest'oggi alcune cose intorno ad un fondamento dell'insegnamento, perché è di capitale importanza il comprendere bene la questione del morire a se stessi. Quando si parla di morire a se stessi si è in un ambito essenzialmente mistico, intendendo per mistico ciò che è straneo alle consapevolezze che si hanno nei mondi grossolani, detti fisico, astrale e mentale. Morire a quello che si è, a se stessi, non vuol dire distruzione dell'io, ma modificazione di esso, tale che questa parte più superficiale della spiritualità umana non venga ad essere più un freno o un'inibizione per il senso mistico, ma venga anzi a fare in modo che vi sia quello slancio che permette il compimento dell'evoluzione di quell'individuo, così come anche di quella razza, intendendo razza in senso strettamente esoterico. Morire a se stessi significa sentire gli altri dentro se stessi, sentire che le consapevolezze che prima di tale evento vi separavano da essi sono crollate inconsapevolmente.